Giovani amici di Facebook, continuo il mio unboxing di tutto quello che ho accumulato durante il Luca Comics & Games non so in quale giorno andrà online questo video ma insomma continuo a spacchettare cose qui sul tavolo in redazione cosa prendo di tutta questa roba? mi piglia bene lo scatolone qua più grande che è piaciuto durante gli altri unboxing me lo ciuccio tutto e cos'è questo? questo è un prodotto di iClever che ci è stato inviato perché secondo loro ci poteva interessare e effettivamente mi interessa, è una roba molto particolare è un incrocio tra un porta tablet da scrivania e una lampada da lettura che detto così non significa nulla se non riempirmi la bocca di termini tecnici in pratica è una lampada da lettura che volendo si trasforma in porta tablet vado ad aprirlo, non c'è niente da rompere purtroppo accidenti, speravo di usare il mio coltellino ma ultimamente lo uso sempre meno vediamo, vediamo che c'è dentro c'è l'oggetto in questione metto per terra che non sopporto non sopporto quando si lasciano le mezze scatole qui sul tavolo eccolo qua, lo spacchetto da tutte le sue minchiatelle di plastica c'è un cavo che immagino sia per alimentarlo volevo vederlo acceso, adesso magari sospendo il video per farvelo vedere acceso ma cambia poco e poi, ah quindi è a batteria perché si è già acceso quindi deduco che vada a batteria, ero convinto che non fosse a batteria lo vedete che è acceso, tac, non so come si accende si accende e si spinge da solo, non capisco come e come al solito non ho minimamente voluto leggere le istruzioni mi rifiuto allora, fondamentalmente come funziona usato in questa maniera qui è una lampada da lettura da tavolo si accende, non ho ancora capito in base a cosa non c'è un sensore, non so che cazzo è fatto in, direi a occhio, finto metallo sembra molto, però è molto simile al metallo vero fingete quindi che sia metallo quando ce l'avete sulla scrivania richiamo un po' il design dei vecchi iMac se vi ricordate è potenzialmente molto comodo la luce però ha anche un secondo utilizzo che è molto interessante che è questo qui, cioè se lo inclinate verso il basso automaticamente diventa un porta tablet sarebbe fatto per gli iPad io non ho un iPad e quindi ci ho sbattuto dentro un Nexus 9 e come vedete funziona egregiamente e direi che questo Highlight Bracket come si chiama, finirà prestissimo sulla mia scrivania qui in ufficio oppure a casa anzi, direi che il posto migliore è a casa sul comodino per cui la sera ripongo il tablet sul comodino e invece mentre lo utilizzo e magari leggo un libro boh, non lo so me lo utilizzo come luce costa relativamente poco ho trovato il prezzo aggiornato qui sotto insieme al link per comprarlo e alla fine è tutto qui direi che, anzi senza direi va a batteria non ho ancora capito come si accende e si spegne avrà un tasto da qualche parte diamine ma non capisco dove quindi avrà forse un sensore lo scoprirete anche voi se lo comprerete perché mi rifiuto di leggere le istruzioni quindi da qualche parte c'è un tasto o un'altra minchietta del genere che trasforma appunto che passa da stand per tablet vedete com'è figoso comodo chiaramente si può mettere anche in verticale se volete usarlo in verticale tac e basta questo è quindi è un incrocio tra una luce da lettura e un porta tablet secondo me è direi comodo molto comodo non è in metallo e in plastica ma chi se ne frega il prezzo è giusto lo trovate qui sotto insieme al link per comprarlo se vi è piaciuto andatevelo a comprare su Amazon usando il nostro link magari grazie fate like fate share e ci vediamo al prossimo in carton unboxing ciao ragazzi ce l'ho fatta capirlo anche senza guardare le istruzioni basta toccare la base ed è molto figa questa cosa devo dire l'ho inserita perché la dovevate vedere ciao giovani grazie